Il prezzemolo è una pianta aromatica molto utilizzata in cucina per guarnire o insaporire i cibi e che non può mancare sul nostro balcone. È una pianta di facile coltivazione, bastano davvero poche cure per avere delle piante rigogliose di un colore verde intenso ed esaltarne l'aroma. Vediamo assieme cosa fare. Il prezzemolo è una pianta erbacea che conviene ripiantare ogni anno. Possiamo acquistare delle piantine già sviluppate o seminare direttamente in vaso. Non necessita di vasi di grandi dimensioni, il terreno deve essere leggero, ricco di sostanza organica. Noi andremo ad utilizzare il terriccio universale biologico Garten Torfi. È meglio mettere sempre sul fondo del vaso dell'argilla espansa per assicurare il giusto livello di umidità e porosità. Possiamo anche seminarlo in vaso. Il periodo migliore è da marzo ad agosto, ma lo vedremo spuntare dopo circa due o tre settinane. Se decidiamo quindi di piantarlo in vaso, riempiamo il vaso dove abbiamo posto sempre dell'argilla espansa sul fondo con il nostro Garten Torfi. Sistemiamo il terriccio e aiutandoci con un bastoncino andiamo a formare delle file parallele, dove andremo a posizionare i semi del prezzemolo. Il vaso che contiene i semi lo andremo a posizionare all'ombra a una temperatura intorno ai 20-26 gradi. Però molto importante è mantenere i semi che dovranno germogliare costantemente umidi, quindi andremo a nebulizzare dell'acqua. Se le temperature sono inferiori, per favorire la germinazione dei semi copriamo il vaso con un foglio di plastica trasparente in questo in questo modo qui, quando andiamo a posizionarlo all'esterno. Dobbiamo comunque sempre ricordarci di tenere inumidito il terreno e quindi di spruzzare sempre dell'acqua sul terriccio. Una volta germinate le piantine, possiamo spostare il vaso gradualmente alla luce, ma mai al sole diretto quando le piantine sono troppo piccole, perché potrebbe bruciarle il sole. Man mano che crescono possiamo poi eliminare le piantine più deboli e in questo modo si può anche evitare di trapiantare le piantine, possiamo proprio coltivarlo nel vaso in cui abbiamo seminato. Se seminiamo il prezzemolo nei mesi di marzo-aprile sarà pronto alla raccolta nei mesi estivi. Per favorire l'attecchimento delle piantine, se decidiamo di utilizzare delle piantine già sviluppate, andremo a comprare le piantine già sviluppate o per favorire la germinazione dei semi, trattiamo con il concime biologico orto domestico 1, che andremo a spargere sul terriccio dove abbiamo piantato i semi e lo interriamo leggermente, sempre lungo la fila dove abbiamo posizionato i semi del nostro prezzemolo. Dopo irrighiamo con un po' d'acqua in modo da non spostare eccessivamente i semi che abbiamo posizionato sul terreno. In questo modo utilizzando quindi il concime andremo a favorire l'attecchimento delle piantine e la germinazione dei semi. Le piantine cresceranno quindi più forti e più robuste e senza stress. Una volta sviluppata la pianta del prezzemolo andremo a posizionarla in un angolo del balcone del terrazzo esposto al sole o mezz'ombra. Questa pianta predilige temperature intorno ai 15-20 gradi, temperature al di sotto degli 0 gradi o superiore ai 35 gradi non sono molto tollerate. Necessita di una costante umidità del terreno, le neffiature quindi devono essere frequenti e anche giornaliere nei periodi più caldi, in estate, facendo comunque attenzione ai ristagni idrici e a non bagnare le foglie perché appunto potrebbero poi marcire. Molto importante è anche irrigare la pianta, come la maggior parte delle piante, nelle ore selane, nelle ore più fresche della giornata. Tutti questi fattori infatti possono altrimenti condizionare lo sviluppo della pianta. Per favorire la crescita delle piantine andremo a concimarle con il concime biologico orto domestico 2. Per aumentare l'aroma e il sapore invece del prezzemolo o in caso di ritorni di freddo andremo a utilizzare il concime biologico orto domestico 3. Le foglie in presenza di elevata umidità possono essere attaccate da un fungo, la peronospora. La peronospora si manifesta con macchie giallognole che successivamente necrotizzano. Le foglie attaccate successivamente disseccono e vanno quindi a compromettere la produzione del nostro prezzemolo. Per prevenire e combattere questo fastidioso fungo utilizziamo il fungicida biologico Ciprus 25DF, avendo comunque sempre l'accortezza di rispettare i tempi di carenza riportati in etichetta prima del consumo dell'aromatica. Le foglie del prezzemolo si raccolgono gradualmente, dobbiamo solo avere l'accortezza quando andiamo a tagliarle dalla base del picciolo. Quando si raccolgono bisogna fare attenzione a non danneggiare il germoglio centrale. È una pianta a crescita molto rapida per cui una volta tagliate gettano subito dei nuovi steli. Ed ora è una curiosità, in commercio esistono varie varietà di prezzemolo a foglie lisce, frastagliate, ricce, piccole o giganti. Comunque il prezzemolo a foglie lisce è quello più aromatico e inoltre se utilizzato nelle pietanze cotte conviene aggiungerlo sempre a fine cotture per non alterarne l'aroma.